Benvenuti da FTA Online a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari. Io sono Alessandro Magagnoli, responsabile dell'ufficio studio del sito ftaonline.com. Oggi trattiamo questo argomento sicuramente molto importante, cioè come riconoscere una fase di correzione da una di tendenza. Lo faremo utilizzando come punto di partenza il grafico di STM. Su STM abbiamo visto nel corso degli ultimi mesi un movimento rialzista che ha permesso il superamento dei precedenti massimi, cioè quelli dello scorso novembre. Ragionando in termini semplicistici verrebbe quindi da dire che il rialzo che c'è stato dai minimi dello scorso luglio è una nuova tendenza, proprio dovuto a questa osservazione, al fatto che sono stati toccati, raggiunti nuovi massimi. In realtà ci sono alcune cose che andiamo ad osservare che ci lasciano un po' perplessi su questa prospettiva e che ci fanno temere invece un movimento in direzione opposta. Innanzitutto osserviamo che l'ampiezza di questo rialzo, quello che c'è stato tra luglio e agosto dello scorso anno, è esattamente il proporzionale al rialzo che c'è stato successivamente, cioè quello dai minimi di ottobre. La proporzione in questo caso è di 1 a 1,161,8. Sapete che questo valore, 161,8%, ricorre molto spesso nelle analisi, nelle proiezioni. Le proiezioni classiche sono quelle del 61,8, del 100% e del 161,8. In questo caso abbiamo quindi che il secondo avimento di rialzo è esteso 161,8% rispetto al precedente. Notiamo anche un'altra cosa molto importante, ovvero sia che questi minimi, minimi, minimi che sono stati toccati a maggio sono scesi al di sotto dei massimi che invece erano stati raggiunti nello scorso mese di agosto. Se scomodiamo un attimo la teoria delle onde di Elliot e possiamo citare una regola che è alla base dello studio delle tendenze, ovvero sia che dopo, parlando del movimento rialzista, dopo lo sviluppo di due movimenti nella stessa direzione, la seconda fase correttiva deve rimanere al di sopra del massimo del primo movimento per evitare che questo swing, questa oscillazione, sia da considerare un movimento correttivo. Qui voi sapete che Elliot conta i movimenti per semplicità con numeri da 1 a 5, per poter dire che questa struttura sarà una struttura che avrà anche un'onda 5, quindi che si concluderà con un ultimo movimento rialzista, è necessario che l'onda 4 appunto non scenda al di sotto del massimo dell'onda 1. Se andiamo a riguardare il nostro grafico, invece, abbiamo questa situazione dove il minimo di maggio è inferiore al minimo di agosto dello scorso anno. Abbiamo anche questa proporzionalità tra i due segmenti, luglio-agosto e ottobre-aprile. Ovviamente, sempre nella teoria delle onde di Elliot, noi abbiamo che esiste una tipologia di correzione che va sotto il nome di flat e che si sviluppa, si chiama flat, perché si sviluppa prevalentemente per vie laterali. Quindi c'è una prima, ipotizzando che si parli di una correzione, di un movimento rialzista, c'è una prima fase di ripiegamento, una seconda fase di rimbalzo che può spingersi anche a ritracciare il 100% del movimento precedente e una ulteriore fase di discesa. Questo è il flat classico dove appunto i prezzi si muovono per vie laterali. Esiste però anche, esistono un paio di versioni diciamo particolari di questo tipo di correzione dove l'onda intermedia fa registrare un nuovo massimo rispetto al punto di partenza precedente. In questa correzione abbiamo due possibilità di evoluzione. Una è che i segmenti che costituiscono questo rialzo, questo ribasso, siano di ampiezza uguale oppure che siano proporzionati in maniera diversa. Di solito la proporzione tra i segmenti all'interno del flat è che sono uno uguale all'altro bisogna considerare che all'interno del flat la prima discesa si sviluppa sempre in tre onde il rimbalzo successivo si sviluppa sempre in tre onde ed è invece l'ultima discesa che si sviluppa in cinque onde. In alternativa a questo rapporto di eguaglianza tra il primo e il terzo segmento può accadere che il primo segmento e il secondo siano legati tra di loro appunto da un rapporto 1 a 1,618. Quindi è possibile che come abbiamo visto il terzo segmento, cioè quello partito dal minuto d'ottobre sia esteso il 161,8% rispetto al primo. Andiamo a guardare che cosa è accaduto dal massimo di novembre del 2021. Abbiamo visto una fase ribassista che è appunto partita a novembre ed è terminata a marzo dello scorso anno. Se prendiamo l'ampiezza di questa fase e la proiettiamo dal massimo di marzo vediamo che in questo caso il minimo di luglio è esattamente sul 100% della proiezione del primo movimento dal massimo intermedio. Quindi qui avremmo visto un'onda A, B, C e anche in questo caso avremmo visto un'onda A, B e C. Solo che nella fase discendente la A e la C hanno ampiezza uguale, nella fase di salita invece la A e la C hanno appunto questa relazione tra di loro 1 a 1,618. Ma se questo che abbiamo detto fino ad ora è plausibile, c'è da considerare che adesso potrebbe essere partita appunto l'ultima fase ribassista, quindi quella che si andrà a chiamare onda C. Quindi qui avremmo visto l'onda A composta a sua volta da tre onde che sono chiamate A, B e C. Come vedete l'onda A l'ho fatta con la A maiuscola, queste che sono invece di ordine minore le facciamo con le lettere minuscole e anche qui avremo nuovamente, ho visto una A, una B e una C che a sua volta conclude la fase intermedia B maiuscolo. Quindi quello che manca a questo punto potrebbe essere una C maiuscola che a sua volta al suo interno sarà composta da cinque segmenti, perché l'onda C nelle correzioni è sempre composta da cinque segmenti. Può essere considerata anche una ipotesi alternativa, andiamo a fare un po' di pulizia su questo grafico, perché esiste una remota possibilità che questo movimento che è partito dal minimo di ottobre sia a sua volta una onda rialzista composta da cinque segmenti e se teniamo presente quello che ci siamo detti prima sul fatto che l'onda 4 non deve scendere al di sotto del massimo dell'onda 1, qui vediamo una prima fase rialzista novembre-dicembre, una flessione, una seconda fase rialzista e la fase di ripiegamento effettivamente si è limitata a toccare dall'alto il massimo di novembre. Vedete c'è stato un marginale sforamento però niente di particolarmente significativo. Quindi questa ipotesi che l'onda partita dai minimi di ottobre sia ancora un'onda in via di sviluppo è plausibile, però sappiamo che molto spesso c'è uguaglianza di ampiezza tra onda 1 e onda 5 e quindi vorrebbe dire che anche in questo caso, se andiamo a prendere l'ampiezza del primo movimento e la proiettiamo dal minimo dell'ultimo, avremmo un target intorno a area 45. Quindi i movimenti fino in area 45 sono ancora possibili, ma anche in quel caso rimarrebbe comunque il rischio di una discesa poi nuovamente verso area 28-30. Per cancellare l'ipotesi ribalsista sarebbe necessario il superamento dei massimi di aprile. Cosa succede se andiamo a confrontare questo scenario con quello che è accaduto al Nasdaq? Vedete se mettiamo in confronto il Nasdaq che è nella parte sottostante e STM nella parte sopra di questa pagina vedete che fino a pochi mesi fa erano i due grafici sostanzialmente sovrapponibili. Negli ultimi mesi c'è stato uno scollamento perché STM ha fatto decisamente meglio del Nasdaq, ma quello che ci interessa vedere è che anche il Nasdaq potrebbe essere in una situazione correttiva proprio come STM. Anche qui abbiamo una fase iniziale, vi ricordo che su STM abbiamo detto che questa era la prima parte della correzione. Nel caso del Nasdaq avremmo quindi una fase correttiva iniziale che sarebbe stata questa, un movimento di rimbalzo intermedio che sarebbe questo. Vi ricordo che abbiamo detto che l'onda intermedia di una fase correttiva è sempre disegnata in tre segmenti e il primo e il terzo segmento molto spesso sono uguali e qui effettivamente se andiamo a prendere l'ampiezza del primo movimento che c'è stato sul Nasdaq, quindi giugno agosto e la proiettiamo dal minimo di settembre vedete che a parte il rialzo che c'è stato nell'ultima seduta settimana scorsa eravamo su una eguaglianza perfetta. Anche in termini di ritracciamenti per adesso siamo sotto il 50% di ritracciamento appunto di tutto il movimento precedente. Sappiamo che fino a che il 50% non viene superato il movimento in essere ha caratteristiche correttive, quindi questo è un altro modo per distinguere tra una correzione e una tendenza fino a che ci si mantiene sotto il 50-61,8% di ritracciamento è elevato il rischio che quel movimento sia solamente correttivo. Oggi il Nasdaq come vedete ha provato ad allungare il passo ma sta rientrando, sta tornando indietro, questo è un Nasdaq 100, sostanzialmente quindi siamo ancora in quella situazione che abbiamo visto prima con i prezzi al di sotto del 50% di ritracciamento. Quindi anche sul Nasdaq non si può escludere il rischio che da quest'area 13100-132 possa partire una nuova fase ribassista destinata almeno a portarsi sui minimi dello scorso ottobre. Quindi fondamentalmente ricapitolando, partendo ovviamente dal nostro grafico di STM, una cosa che ci deve insospettire quando abbiamo un movimento come quello che abbiamo visto appunto su STM dove c'è una fase di crescita, una correzione e un nuovo rimbalzo, se la seconda fase correttiva scende al di sotto del massimo del primo movimento molto probabilmente quella struttura è una struttura correttiva. Quindi essendo una fase correttiva vuol dire che c'è il rischio di un nuovo movimento nella direzione del movimento precedente alla correzione, in questo caso ribasso che c'era stato dai massimi di novembre, che può essere o la parte terminale di una correzione o la parte intermedia di una correzione, perché le correzioni si sviluppano sempre in tre segmenti e quindi se quello che stiamo vedendo è una... lo cataloghiamo come un movimento correttivo, se precedentemente c'era come in questo caso un movimento correttivo vuol dire appunto che è una fase intermedia quindi è l'onda B. Come sempre queste considerazioni che facciamo servono per darvi una capacità di lettura del grafico che vada oltre l'analisi tradizionale, se ci sono domande o perplessità o ci sono necessità di ulteriori chiarimenti potete fare semplicemente un commento al video o venire sulla nostra pagina facebook, la pagina DFT online e ci trovate disponibili assolutamente a darvi ulteriori informazioni e appunto chiarimenti. se vi è piaciuto il video potete lasciare un like, vi do appuntamento domani con il nostro consueto commento giornaliero. grazie a tutti